eccoci qui di nuovo in onda su Iris TV, Irina Tirdea per voi stasera siamo di nuovo a Milano nel nostro Taxi Club buonasera buonasera a tutti si parte da domani Gias Cavalli era ora, wow era ora, si bala, ci divertiamo e vi ho preparato anche una sorpresa saliamo sopra a vedere il nostro panorama di Milano su Torre Branca, quindi non potete mancare Taxi Club e Iris TV con voi a domani sera a Gias Cavalli ciao ragazzi ciao